Si riparte dopo le elezioni che hanno determinato cambiamenti radicali in Parlamento e anche un passaggio di testimone in Consiglio regionale. Elisa Montemani infatti è stata eletta deputata e lascerà il suo posto a Massimiliano Baldini. Le altre due consiglieri candidati, Vincenzo Ceccarelli del PD e Stefano Scaramelli di Italia Viva, non ce l'hanno fatta. L'analisi dei risultati coinvolge partiti e consiglieri che cercano di interpretare le ragioni della vittoria per il centrodestra e della sconfitta per il centrosinistra. Ma il presidente del Consiglio regionale assicura a Telegram Ducato in diretta tv non cambia niente dal punto di vista istituzionale. Primi contrasti nella maggioranza comunque dopo il voto in una seduta tutta dedicata alle emozioni, ce n'è una che divide Italia Viva e PD riguarda la Guardia Medica e è critica sulla riforma. La presenta Scaramelli, la votano tutte le opposizioni. Non passa ma crea un primo caso politico. L'iter per il nuovo rigassificatore di Piombino prosegue il suo corso, anche se Snam fa capire che l'apertura in ogni caso porrebbe slittare di qualche mese. Mancano poche settimane al parere definitivo del commissario, il presidente Gianni. Si è riunita la conferenza dei servizi che proseguirà nei prossimi giorni il suo lavoro. La politica però resta divisa. Alla fine vedremo le immagini e ascolteremo alcune testimonianze della bella serata per la pace al Teatro Petrarca di Arezzo insieme alla comunità simbolo di Rondine. Antonio Mazzeo, Telegranducato in diretta, parla del risultato elettorale del suo partito. Il PD poi spiega che non ci saranno effetti nei rapporti istituzionali. Abbiamo la necessità ora di capire, anche di fermarci un attimo, perché questa è una sconfitta pesante. Bisognerà anche rivedere quella che è la nostra identità, capire fino in fondo non solo gli errori, ma cosa proporre al Paese, e come riuscire ad intercettare un consenso che in questo caso non siamo riusciti a fare con queste proposte. Il livello istituzionale invece è molto, molto differente. Penso che dobbiamo iniziare subito a collaborare con il nuovo governo. Io mi auguro che il nuovo governo possa insediarsi il prima possibile. Abbiamo tante partite aperte, riguardano anche la nostra regione, risorse del PNRR, la necessità di dare risposte a temi complessi, penso alla geotermia, all'investimento sulle rinnovabili, penso anche al rigassificatore di Piombino. L'effetto più evidente è l'elezione di Elisa Montemagni al Parlamento. Ha vinto nel suo collegio per la Camera, presto lascerà il posto al suo collega di partito. È consapevole delle difficoltà della Lega, ma crede che il centrodestra in Toscana ormai abbia davvero la maggioranza dei consensi. Le persone cominciano a sentire la voglia dell'alternanza politica di provare anche qualcos'altro, di provare anche un governo che possa essere di centrodestra, che possa essere diverso da quello che ha sempre visto la Toscana in questi anni. Magari nel 2025 ci sarà una svolta positiva anche in questo senso. Noi ci crediamo e lavoriamo anche per questo, perché il programma che abbiamo portato nel 2020, noi, ma anche quello che ha portato Gianni, in realtà è lettera straccia. Il nostro perché ovviamente la maggioranza non ci porta a riflessioni che possano essere utili per il territorio, perché tutte le cose che presentiamo ce le bocciano sistematicamente. E il loro perché la loro maggioranza, frantumata come vediamo, non li porta a portare a casa niente. Si pensi solo che in questa legislatura, ad ora, non abbiamo ancora visto una riforma. L'analisi del voto coinvolge tutti i vincitori e vinti che abbiamo già sentito nei nostri telegiornali e nelle nostre dirette. Ci saranno effetti qui a Firenze, nelle politiche regionali, nella stessa composizione della maggioranza. E così il centro-destra, Vincente anche in Toscana, lancia la sfida verso le prossime regionali. Saranno nel 2025. E critica quella che qualche osservatore definisce l'agenda Gianni. L'agenda Gianni, se esiste, immagino sia fatta da una pagina. La pagina in cui il governatore prende atto che da oggi, se vorrà continuare a governare questa regione, lo farà non avendo più la maggioranza dei consensi della regione. Perché ieri ho sentito il governatore arrampicarsi addirittura in uno strano conteggio matematico secondo il quale avrebbe ancora la maggioranza perché somma i consensi del PD, quelli della lista di Calenda e Renzi. Forse è dimenticato che la lista di Calenda e Renzi ha fatto la campagna elettorale praticamente quasi esclusivamente contro il PD, quindi dubito che oggi questi consensi si possano sommare. Oggi Fratelli d'Italia è il primo partito al Senato in Toscana e quindi il presidente Gianni ovviamente ne doveva prendere atto. Detto questo, auspico nell'interesse della regione e di tutte le province toscane che vi sia una collaborazione tra il governatore Gianni e il governo. Su questo non ho dubbi perché il governatore da questo punto di vista non credo abbia preclusioni ideologiche a confrontarsi col governo. I risultati arriveranno in Toscana se la Toscana si confronterà ovviamente col governo. Il PD accusa il colpo ed è proprio lo sconfitto Ceccarelli nel collegio di Arezzo a fare il suo primo commento a caldo a margine dei lavori dell'Aula. Certo il risultato del Partito Democratico anche in Toscana al di là di essersi difesi in questa situazione difficile che il risultato a livello nazionale non è un risultato brillante. Ma per la Toscana vale lo stesso che ho detto per quanto riguarda il livello nazionale. Cioè prima i contenuti prima la riprofilatura del Partito Democratico prima una riflessione su un programma che noi abbiamo per quanto riguarda il governo della Regione che ha messo assieme come dire una maggioranza che è quella che governa quindi la riconfermo eventuali aggiornamenti partiamo dai temi e partiamo dai contenuti non da altro e poi si parla di chi deve guidare di chi dovrà guidare il partito. Ora la maggioranza in Regione ha due gambe PD e Italia Viva ma guarda anche verso il Movimento 5 Stelle che comunque per ora festeggia il buon risultato in controtendenza rispetto alle previsioni della vigilia e alle stesse regionali del 2020. Eppure adesso per la capogruppo non ci sono le premesse per un accordo futuro. Faccio un piccolo richiamo storico a due anni fa quando il Presidente Gianni manifestò la stessa intenzione ma io non ricordo di aver mai avuto contatti concreti per avviare anche questo percorso perlomeno da parte sua dall'altra parte c'è un'evidenza che il campo largo, larghissimo, eccessivamente largo che vorrebbe mettere insieme dei programmi totalmente diversi come quelli che sono rappresentati da Italia Viva e Azione e il Movimento 5 Stelle quindi un neoliberismo da una parte rispetto a un progressismo e a un'agenda sociale più chiara e netta come quella del Movimento 5 Stelle non possono stare insieme questo anche nel rispetto di ciò che le forze politiche esprimono quindi se questo, l'idea di Gianni è quella per cercare di recuperare abbastanza consensi perché teme un risultato devastante per le regionali del 2025 ecco, mi sento già di suggerire un consiglio non richiesto che l'operazione così posta è assolutamente sbagliata. C'è un dubbio che riguarda Italia Viva che con azione ha realizzato un polo di centro e che evidenza il buon risultato ottenuto soprattutto nella nostra regione Scadamelli non ce l'ha fatta ma dalla sua nuova collocazione alle politiche lancia ora la sfida Gianni. Per cambiare i passi della Toscana non serve allargare il campo serve fare le scelte per le quali ci siamo candidati due anni fa serve dire sì al regassificatore serve non avere doppie misure rispetto all'investimento dell'aeroporto di Firenze serve fare una misura straordinaria a sostegno delle imprese serve cambiare passo in termini sanitari serve fare le cose serve fare il piano dei rifiuti non soltanto annunciarlo è finita la stagione degli annunci e dei proclami deve iniziare la stagione del governo della nostra regione. Abbiamo tempo sei mesi per arrivare alla metà del mandato e su queste questioni che noi chiediamo un cambio di passo alla regione toscana e ne vogliamo essere interpreti in termini fattuali in termini concreti in termini di azioni di governo non in termini di strizzare gli occhi a Cinque Stelle che finora in due anni sono sempre stati contro le nostre politiche non serve allargare il campo serve far giocare in quel campo e giocare da protagonisti. Proprio da Italia Viva parte il primo attacco a PD e Giunta il capogruppo Scaramelli che fino al 2020 ha guidato la Commissione Sanità critica in una mozione la riforma della Guardia Medica porrebbe mettere a rischio dice l'efficienza stessa del servizio. Ma è una mozione che difende il ruolo dei medici che ne attribuisce un significato e un valore alle professioni mediche sanitarie e infermieristiche che vuole difendere il volontariato della regione toscana e che vuole tutelare il lavoro dei pronti soccorso della Toscana e quindi un impianto quello di riforma che il Partito Democratico ha ipotizzato che è uscito negli organi di stampa in primis la Nazione ad agosto e poi a settembre ripreso da organi di stampa riteniamo che sia un errore. Io ho posto con questa mozione un voto del Consiglio regionale perché desse un indirizzo da Giunta per fermarsi perché è una riforma che va bloccata che io a suo tempo avevo già bloccato ho avuto la forza e il coraggio di farlo quando ero Presidente della Commissione Sanità e quindi per cinque anni ho fatto in modo che questo non avvenisse adesso si ritorna e si tira fuori dai cassetti una vecchia impostazione che lede da una parte i territori rurali che impedisce ai cittadini toscani di avere un sistema di emergenza di urgenza adeguato alle proprie aspettative che mortifica il volontariato svilisce la professione dei medici e soprattutto rischia di intasare i pronti soccorso andare a togliere i medici di guarda nel territorio è un errore perché sono un presidio territoriale e il Covid ci ha detto quanto sia importante sostituire un medico con un call center vuol dire fondamentalmente svilire la professione sanitaria e medica sulla sua linea si schierano tutte le opposizioni sia il Movimento 5 Stelle che il centrodestra una richiesta assolutamente sensata perché nel momento in cui i pronto soccorso scoppiano è evidente che se leviamo la guardia medica aumenta il carico su pronto soccorsi perché non hanno i pazienti che stanno male la notte altro modo per essere curati che chiamare il 118 ebbene quella richiesta è stata votata da tutte le opposizioni da tutte le minoranze in maniera convinta dal 5 Stelle Lega Fratelli d'Italia e Forza Italia ma è stata bocciata dal Partito Democratico quindi la maggioranza non c'è più una mozione che non avviene su una cosa di lato su una cosa marginale ma su un elemento centrale come la sanità e come la riforma della guardia medica la maggioranza che sosteneva Gianni qualche mese fa non esiste più il Consiglio l'ha certificato così come l'hanno certificato alle ultime elezioni politiche la risposta della maggioranza arriva dal Presidente della Terza Commissione che parla di un allarme decisamente ingiustificato mi pare che il tema della riforma della continuità assistenziale della guardia medica è una cosa che si parla da anni già dalla scorsa legislatura era pronta una riforma perché noi di notte ogni guardia medica risponde in media a due telefonate qui si tratta di strutturare intanto un obbligo europeo è corretto di strutturare un numero unico per la continuità che è il 116 117 quindi questo comunque va fatto secondariamente c'è la ristrutturazione di tutto il tema delle casse delle comunità in ogni zona ci sono almeno una casa della comunità AB che è aperta H24 quindi c'è una presenza che deve essere costruita e non ha senso mantenere una guardia medica e poi costruire una casa della comunità accanto quindi deve essere riassorbita dalla costruzione delle casse delle comunità AB e le preoccupazioni per le aree periferiche l'assessore quando è venuto a presentarla in commissione ha detto chiaramente che nelle aree periferiche dove c'è una lontananza da qualsiasi presidio medio viene mantenuta la presenza fisica della guardia medica quindi lanciare gli allarmi eccetera mi pare che sia assolutamente fuori contesto intanto proprio in commissione nelle ore seguenti la commissione che ha approvato anche il bilancio dell'agenzia regionale di sanità l'assessore Bezzini ha fatto il punto sulla diffusione del covid adesso c'è una crescita evidente del numero dei casi ma i vaccini possono essere ancora un'utile protezione per la terza dose gli anziani over 80 coinvolti sono stati più che a livello nazionale il 92% contro l'88 per la quarta dose il 35,5% degli over 80 contro il 32% del dato nazionale poche nella nostra regione le reazioni avverse al vaccino che sono state segnalate cambiamo argomento nei giorni scorsi si è riunita la conferenza dei servizi per il nuovo rigassificatore a Piombino l'iter è avviato presto a fine ottobre ci sarà il risponso definitivo ecco il presidente Gianni che è anche commissario per l'opera dopo la prima riunione sono stati approfonditi molto i problemi legati alla sicurezza e sotto questo aspetto vi è stato diciamo un materiale piuttosto forte che è stato presentato io ritengo quindi che siamo partiti con il piede giusto e è evidente che ora a pieno ritmo e piano lavoro per poter approfondire per poter rispondere sempre meglio per poter cogliere anche nei confronti dei cittadini il miglior senso delle risposte da dare alle preoccupazioni della popolazione locale nella prossima tappa che sarà appunto il 7 di ottobre la discussione adesso si affaccia anche qui a Firenze in aula il fronte delle opposizioni almeno sul territorio resta fortemente contrario non tanto al rigassificatore ma alla collocazione nel porto di Piombino la posizione dell'opposizione in consiglio regionale è sempre stata molto chiara è sempre stata in linea con le istituzioni locali a partire dal sindaco di Piombino e dai sindaci della Val di Cornia una posizione una posizione sicuramente contraria a quel contesto finché non ci viene fatta chiarezza veramente su quelle che sono le difficoltà che quel progetto incontra ma a quale governo dovrà dire l'ultima parola quello uscente di Draghi o quello nuovo probabilmente a guida Meloni se il governo riuscirà ad entrare in carica prima del pronunciamento sarà il governo Meloni che arriverà qualora dovesse pronunciarsi prima sarà il governo Draghi nell'esercizio delle sue ultime funzioni a doversi pronunciare io mi auguro e lo dico chiaramente perché poi dopo si va a giocare su l'avete detto sì l'avete detto no se dovesse aspettare il governo Draghi io mi auguro che il governo Draghi faccia lo stesso mi auguro che voglia fare questo passaggio voglia farci vedere un documento dove ha valutato eventuali collocazioni alternative a Piombino tra i tanti documenti discussi durante l'ultima seduta ce ne sono alcuni che riguardano l'emergenza climatica per fronteggiarne almeno qui gli effetti devastanti uno la siccità auspichiamo che oltre a una mozione già precedentemente presentata su soltanto i bacini di accumulo in Toscana ci sono circa 2400 cave altre regioni lo hanno già fatto e anche in Toscana si chiede un censimento di queste 2400 cave la visione la rivisitazione per far sì che alcune almeno di queste cave possano diventare dei veri e propri bacini di accumulo l'emergenza idrica che abbiamo attraversato in questo periodo estivo ha messo in ginocchio moltissimi agricoltori diverse attività produttive e quello che noi auspichiamo è sicuramente che nella prossima estate questo non si ripeta più e tra clima ed energia c'è la strada delle rinnovabili che tutti ormai puntano a potenziare sono molto soddisfatto personalmente come gruppo del Partito Democratico lo siamo per l'approvazione avvenuta oggi in aula della mozione che impegna la giunta regionale a semplificare ulteriormente ad intervenire rispetto a tutte quelle norme e regionali e di carattere nazionale impegnando appunto il governo ad una semplificazione affinché le persone i cittadini ma anche le imprese possano come dire avere meno lacci lacciuali possibili e anche le amministrazioni comunali nel rilasciare tutte quelle attualizzazioni affinché sia possibile con celerità avere impianti diciamo a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica e poi c'è un'iniziativa sostenuta dalla maggioranza del Consiglio regionale che punta a prevenire la drammatica escalation delle morti sul lavoro a livello nazionale si dovrebbe secondo me cercare di dare un'omogeneità e di creare anche dei pool specialistici così come è stato chiesto nel disegno di legge presentato al Senato il 2052 che è un testo di legge molto avanzato sostenuto peraltro anche delle associazioni degli invalidi su dei luoghi di lavoro e credo che questo per la regione toscana costituirebbe di rafforzare presso i nostri tribunali dei pool di magistrati che abbiano delle competenze specifiche quindi di poter agire in maniera tempestiva di poter dare formazione e quindi di poter rafforzare dei presidi che possono essere più capillari per non solo intervenire quando ci sono le tragedie ma soprattutto fare prevenzione La musica le parole l'emozione di una comunità viva inclusiva aperta internazionale quella di Rondine per celebrare al Teatro Perrarca di Arezzo la giornata internazionale della pace iniziativa voluta e sostenuta dal Consiglio regionale c'è chi alza muri e c'è chi invece prova a costruire ponti e lo fa oggi qui mandando un messaggio forte basta guerre basta dolore basta morte viviamo un tempo davvero difficile e dobbiamo tutti insieme costruire le condizioni così come ci insegnano i ragazzi di Rondine per cercare di fare in modo che il conflitto possa essere gestito in maniera diversa possa essere gestito con la convivenza civile ci possa essere la possibilità di evitare l'uso delle armi il protagonista è stato Simone Cristicchi geniale versatile cantautore e musicista che si è esibito insieme ai giovani sono qui per celebrare una pace che è tutta ancora da costruire e lo facciamo insieme ai ragazzi della cittadella di Rondine e per me è una grandissima emozione averli sul palco insieme a me ascolteremo le loro testimonianze e soprattutto rifletteremo su come possiamo contribuire alla costruzione di questa parola così fragile e così necessaria per tutto il mondo tante le testimonianze in una serata viva carica di suggestioni Issam è palestinese Meital è israeliana in Palestina c'è un grande murro tutto intorno al nostro territorio quanti di voi per venire qui stasera hanno dovuto passare dei controlli e poi però con il trascorrere del tempo soprattutto quello che è passato insieme alla mia compagna israeliana Meital ho capito che questo muro non è solo un muro tra due luoghi ma anche un muro tra le persone un muro che divide le persone sono Meital vnuk sono israeliana sono ebrea sono una studentessa di rondine sono una straniera tutto quello che vi ho detto fino ad ora non l'ho detto per farvi male o provare compassione per me deve farvi pensare fare la giornata della pace giornata mondiale significa vivere un giorno di festa e lo viviamo mentre lo scenario del mondo è uno scenario di guerra ma c'è il motivo della festa l'abbiamo visto perché la scelta del consiglio regionale toscano di affidarsi a rondine e poi a oida l'orchestra di arezzo e a simone cristicchi ha fatto un mix eccezionale perché la bellezza di questi giovani che trasformano le loro vite con coraggio dall'inimicizia all'amicizia sono la primizia della pace molto concreta e la forza della musica e la forza della testimonianza artistica di simone cristicchi ha valorizzato questa bellezza regionando per ora finisce qui torniamo venerdì prossimo sempre alle 21.15 dopo il nostro TG della Sera ricordate in tutta la Toscana sul canale 15 di convyttica dell'intervistsica alla scena amica che si va grazie a tutti tra centrale trovate soddisf hay da portare a sp s sp chiuso Grazie a tutti